Ciao a tutti ragazzi qui è Billy Bulli che vi parla in modalità Belva e allora oggi grandissimo video andiamo a parlare del grande campione europeo di GT Sport ragazzi è un italiano arriva dalla Sicilia ragazzi 20 anni giovane e grande campione ragazzi il grande e unico signore e signori Giorgio Mangano come potete vedere già a 12 anni era scritto una scuola di go-kart con il grande Nicola Castiglione che gli ha insegnato tutti i trucchetti per arrivare a quello che oggi giovane pilota quattro anni di scuola di kart e le vittorie non mancavano ragazzi da subito si era visto che era un gran fenomeno Soddy World Series Kart partecipa e vince a varie tappe del campionato e quasi sempre sul podio anche qua ragazzi coppe da tutte le parti per Giorgio Mangano e a grande sorpresa vince il Rally Go Talent categoria Under 18 con la 500 Abarth e allora ragazzi come potete vedere è un campione vero anche nella realtà su percorso federale AC Sport ragazzi e allora detto questo arriva a 20 anni e cosa succede nel 2018 quest'anno vince il campione europeo è lui il grande Giorgio Mangano e allora andiamo subito a vedere una gara che ha vinto settimana scorsa e allora ragazzi basta con le chiacchiere adesso iniziamo con i fatti qui con Billy Bulli ragazzi si accendono i motori e si entra in modalità belva qui a Willow Spring International Raceway Big Willow parte secondo grande Giorgio davanti Racer GTE e seguono gli altri come dei missili con queste Mercedes subito di traverse ragazzi e già dalle prime curve ci stiamo già rendendo conto di che categoria sono questi piloti di che pasta sono fatti ragazzi e allora bellissimo questo evento GTSport Cup by Mercedes Benz Italia quindi un evento super super importante per questi piloti di categoria ragazzi abbiamo qui in pista William Giorgio alias Giorgio Mangano ragazzi campione europeo è qua che sta bruciando le gomme su questo circuito già di traverso intanto Racer che sembra già soffrire la pressione del grande Giorgio Mangano che non sbaglia la virgola ragazzi intanto guardate come sfrecciano via e abbiamo anche grande Nick il chirurgo ragazzi in quinta posizione ma ancora qui davanti già da subito cercano di scappare via addirittura Giorgio Mangano sembra avere qualcosa in più ma rimane attaccato veramente franco bollato ragazzi già da subito rimango a bocca aperta perché ragazzi guardate che non è facile già la pista è complicata è difficile perché qui appena sbagli appena ti porti con le ruote fuori dal circuito ti ritrovi a chiacchierare con i cammelli ragazzi qua nel deserto allora attenzione perché qui davanti ancora le fanno da padrona qua con queste Mercedes velocissime intanto bellissima la livrea di Giorgio Mangano pulita semplice ma dentro abbiamo un pilota del cuore grande ragazzi con il numero 57 è qui che cerca di guadagnare la tua posizione perché in questo evento ragazzi intanto c'è da dire che settimana scorsa appunto si è svolto questo evento più stante visto la grande partecipazione di tantissimi piloti di Gran Turismo e si è svolto questo importante evento organizzato niente poco di meno ragazzi aprite bene le orecchie dalla Mercedes Benz di Italia GT Sport Cup Mercedes Benz Italia 15 giri di fuoco su questo circuito e il primo classificato viene catapultato alla finale che si terrà a ottobre durante la Milan Games Week ragazzi quindi è importantissimo arrivare a primi perché di diritto ti ritroverai con i grandi campioni e Giorgio Mangano lo sa che sta cercando la concentrazione il momento giusto per superare il racer che sembra non mollare ragazzi intanto qua dietro altri nomi Scraus grande amico ragazzi Niet il chirurgo c'è anche un video sul mio canale che parla di lui ragazzi e viene attenzione perché si trova fuori attenzione tutto di traverso aiuto ragazzi niente non riesce a portare la macchina in pista ancora fuori ragazzi gara compromessa per il chirurgo nonostante velocissimo purtroppo si ritrova dietro peccato per lui perché è un altro asso di questo Gran Turismo intanto guardate bellissima questa ripresa qui si vede addirittura le mongolfiere ragazzi qui ancora Giuse Beskovski ragazzi cambiate nomi mettete nomi facili che sennò è grande Billy Bulli fa fatica ragazzi ma ancora qui davanti c'è Giagi in terza posizione che sembra recuperare qualcosina e si sta cercando di staccare da dietro Scraus che non molla ragazzi ma ancora io direi di goderci questo spettacolo perché qui ragazzi guardate come veramente gli sta attaccato negli scarichi il grande William il grande Giorgio Mangano che adesso apre la cassetta degli attrezzi tira fuori cacciavite e martello e cerca di smontare il paraurti del velocissimo B-Racer attenzione perché siamo al terzo giro e grande Giorgio Mangano sa quando poter superare ragazzi aspetta il momento giusto è inutile sforzare è inutile rischiare bellissime intanto veramente queste riprese che ci offre la regia ragazzi attenzione sembra di essere addirittura dentro la macchina con questi grandi campioni stupende le livree e io per un attimo mi metto in macchina con il campione europeo ragazzi e vado a sentire l'aria l'aria dei campioni ragazzi che si respira in questa profumata macchina ragazzi con il grande Giorgio ragazzi vent'anni vent'anni studente bravo ragazzo conosciuto personalmente ragazzi un grande campione e se vi chiedete come è possibile che un ragazzo di vent'anni è campione europeo ragazzi allora avete visto all'inizio del video che vi ho parlato un pochino della sua storia senza entrare nei particolari ragazzi ma questo ragazzo qui ha nel sangue i motori e ha dato dimostrazione nella vita reale di essere comunque un campione di avere un talento e l'ha trasmesso qui su questo gioco del gran turismo che di gioco ormai ne ha ben poco con questa telecronica di Billy Bulli ragazzi guardate come gli sta veramente attaccato negli scarichi veramente guida perfetta per questi due piloti complimenti anche per B-Racer ragazzi che stanno facendo una gara incredibile ma Giorgio guardate come con tanta prudenza e rispetto guida e aspetterà il momento giusto ragazzi attenzione che sembra avere di più adesso e si porta all'esterno solo uno a fianco all'altro ragazzi attenzione è arrivato il momento il momento e passano insieme sul la chiusura del quinto giro del quarto giro ragazzi ancora insieme toccata ragazzi attenzione no ragazzi fuori attenzione Giorgio di traverso colpo di sterzo e riesce a mettere le ruote ancora in pista trovanti in prima posizione mentre perde una posizione il Razer si trova attaccato adesso dentro attenzione a questa bagarre con Gianji e Scraus che sono scarichi dentro dentro gli scarichi ragazzi tutti veramente attaccati franco pollati in quattro in un fazzoletto ragazzi un fazzoletto grande come una spanna e per un attimo tutte queste Mercedes unite sono diventate la fara nera ragazzi velocissimi velocissimi grande battaglia intanto ragazzi e Giorgio nonostante uscito fuori di pista si ritrova con una manovra incredibile riuscito a portare dentro ancora ragazzi bellissimo guardate quanti spettatori sono là nel cielo a guardarsi dall'alto queste Mercedes che emettono un rombo incredibile un rombo cupo che ti fa tremare le gambe ragazzi a me personalmente sono qua con i peli già alzati gli occhi lucidi nel vedere questi grandi campioni che fanno un altro mestiere ragazzi fanno il mestiere del pilota il pilota vero e ancora siamo qui ragazzi andiamo a vedere un attimino qua dietro perché il Nick il Nick il campione ragazzi anche lui ragazzi è velocissimo non si vede più ragazzi si è ritirato rottura del motore per lui intanto Beskovski che cerca di andare all'attacco per la quinta posizione Pesca CT settima posizione Decatalist attenzione ottima posizione attaccato adesso da grande Rory 9740 se ci aggiungiamo due o tre numeri possiamo chiamarlo aurare i pasti ragazzi e allora andiamo ancora qui avanti perché la battaglia è qui ragazzi è qui che c'è la festa e c'è il party di Billy Bulli dove i peli si alzano e cominciano a ballare la samba al suono di questo potentissimo motore di queste Mercedes ragazzi e allora guardate come interpreta questa pista il grande Giorgio Mangano che è il campione europeo non per niente ragazzi si trova qui davanti prima posizione e Giorgio che non lo molla fatica tiene questo ritmo è ancora di dieta ad essere incominciato a tenere una certa distanza tra loro e incomincia la vera gara incominciano i piloti a potersi rilassare un attimo ma allo stesso tempo concentrati attenzione perché B-Racer B-Racer entra ai box gomme medie per lui quindi strategia strategia diversa per questi piloti rimane in pista William il grande Mangano rimane in pista comunque vediamo un attimino anche l'usura delle gomme quindi ora poco usurate quindi vediamo un attimino queste strategie diverse a lungo dei 15 giri dove ci porteranno e vedremo chi realmente ha scelto la strategia migliore intanto Gianji in seconda posizione sta facendo una gara strepitosa di traverso adesso fa fischiare le gomme ragazzi in terza posizione Scrausi ma anche lui guardate ragazzi che potenza entrano veramente di traverso e vengono raddrizzate a colpi di gas come guidare veramente le macchine vere ragazzi non ce n'è altro che storia altro che gioco il gioco si fino a un certo livello ma qui siamo a livelli veramente che gioco non esiste più ragazzi allora portiamoci ancora qui davanti con il grande giorgio mangano 123 857 giro più veloce guardate con che velocità ragazzi tanto che qua c'è scritto 150 qui entrano dentro a 165 270 km tutti di traverso ragazzi grandi grandi campioni e ancora attenzione perché Scrausi entra ai box e invece continuano Gianji e Williams continuano con molto coraggio a stare in pista con le gomme che cominciano a usurare e cominciano a fischiare sempre di più ragazzi ma è Giorgio che comincia a vedere davanti a sé il gradino del podio eccolo qua grande Giorgio grande artista del volante io lo definisco il pitbull dell'asfalto ragazzi il pitbull del gran turismo e non molla con il suo stile di guida gentile rispetto a tutti ma quando c'è da infilarsi e c'è da buttarsi lui si trasforma in un pitbull e non molla ragazzi attenzione ancora di traverso grande queste manovre ragazzi veramente attenzione perché qui ci basta un attimo solo ragazzi per portare le ruote fuori pista e veramente andare a chiacchierare coi cammelli e dopo altro che andare alla finale qui dopo ci si ritrova al bar a bere una birretta per dimenticare l'accaduto scusate il colpo di tosse Giaggi che veramente sta tenendo un ritmo che perde qualcosina ad ogni curva qualche centesimo prezioso che il grande William il grande Giorgio Mangano mette in tasca per giostrarsi gli ultimi giri con un certo vantaggio che sicuramente inizierà a tirar giù il finestrino e a guardarsi fuori e a salutare il pubblico e a salutare anche qualche cammello ma adesso vediamo eccolo qua grande Giorgio con il 47% di benzina gomme media anche per lui entra ai box cambio super veloce del suo team e riporta le ruote in pista ancora in prima posizione quindi si ritrova adesso però veramente attaccato di 3 decimi attenzione perché Racer esce fuori attenzione va a cercare di riprendere subito il grande Giorgio a usato troppo si è trovato con le ruote fuori e perde la seconda posizione si trova davanti adesso Gianji che ne approfitta ed è qui la bagarre ragazzi adesso metterla davanti il grande Giorgio lo vedete viaggia in tranquillità eccoli qua andiamo a goderci un attimino questa bagarre tra grande Gianji e B-Racer che cerca adesso di chiudere la traiettoria il più possibile per guadagnare qualche centesimo ma all'uscita della curva schiaccia a fondo attenzione fumata attenzione sabbia per un attimo se ha portato le ruote posteriori fuori attenzione ragazzi non trovatevi fuori perché altrimenti bisogna aprire il cofano e qua con tutta questa sabbia tiriamo fuori dal baule secchiello e paletta attenzione vi ritrovate a fare i castelli di sabbia e ancora grande Racer che cerca in tutti i modi di portare via la seconda posizione si porta sotto adesso ed è il momento ragazzi e tira fuori cassetta degli attrezzi cacciavite e martello e inizia a scolpire il suo nome sulla livrea del grande Gianji attenzione portiamoci adesso con questa visuale perché me la voglio godere attenzione sono uno più a calvato Gianji porta all'esterno Racer che deve mollare il gas si riporta adesso in scia attaccato veramente negli scarichi comincia a misurare con il calibro grande grande questa gara mentre là davanti approfitta di questa Bagari grande Giorgio Mangano e guadagna ancora qualche decimo da qui ragazzi se le stanno dando di santa ragione via Guantonia mani nude scazzottata tra grande Gianji e grande B-Racer colpo al fegato testata da parte di B-Racer ma la situazione non cambia ancora Gianji che tiene duro e non si fa intimorire ed è Racer che sta facendo un lavoro in testa sinistra per farsi vedere in tutti gli specchietti possibili per mettere pressione a grande Gianji ma Gianji con la sua esperienza non guarda dietro lui guarda avanti nel panabrezzo perché vede là davanti il grande Giorgio che sa lontana e cerca la concentrazione per riguadagnare e ritrovare ancora la possibilità anche per lui di guadagnare questo primo gradino del podio ma là davanti incomincia ad allontanarsi ragazzi dal panabrezzo vediamolo del grande Gianji ecco che cosa vede vede un puntino il puntino il puntino del cuore grande ragazzi il puntino il grande campione europeo Giorgio Mangano che adesso sparisce dietro questa curva incomincia ragazzi ad assaporare il primo gradino del podio intanto ancora qui dietro Gianji che riesce magistralmente a in una serie di curve ad allontanare il B-Racer che si cerca che cerca ancora tutti i modi di rifarsi sotto ragazzi e andiamo ancora a vedere un attimino ancora qua dietro che succede quarta posizione abbiamo Scraus ancora velocissimo e Giuse che di traverso affronta questa curva in quinta posizione grande prestazione anche per lui e Beskovski ragazzi italiano con questo nome per Billy Bulli un gran problema e ancora Rory settima posizione Pesca C-Til in ottima posizione ancora battagliare cercando di guadagnare la settima posizione a discapito del grande Rory e qua dietro The Catalyst che incomincia a vedere la davanti e a cercare di approfittare della bagarre tra Rory e Pesca per cercare di portargli via la settima posizione ma torniamo ancora qui ragazzi qui davanti guardate dall'alto come pennella le curve come le pennella ragazzi questo artista questo grande pittore che adesso nella sua auto tira fuori pennello e acquarelli e si sta pitturando sulla sua tela il primo gradino del podio ragazzi grande Giorgio Mangano complimenti grande ragazzo bravo ragazzo soprattutto ragazzi quindi merita 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 quello che è il grande campione europeo ragazzi ce l'abbiamo qua in pista oggi con il grande Billy Bulli e ancora qui dietro ancora ragazzi grande battaglia perché non molla ragazzi qua dietro il grande B-Racer non molla siamo al dodicesimo giro guardate con le gomme poco usurate ma incomincia siamo a un quarto di serbatoio quando mancano tre giri attenzione grande possibilità per B-Racer di recuperare perché il grande Giangi ha portato le ruote fuori per un attimo le ruote posteriori grande fumata per lui ancora Racer che spinge al limite si ritrova anche lui fuori ragazzi veramente pista pericolosa io mi immagino quanto allenamento hanno fatto questi piloti per riuscire ad ottenere queste altissime ragazzi prestazioni e allora andiamo a godercelo ancora con questa visuale perché si avvicina veramente B-Racer si avvicina ragazzi e si è fatto sotto e siamo adesso nel rettilineo e là davanti ancora Giorgio che fa un altro mestiere con questo caldo torrico c'è anche il tempo di tirare fuori dal cruscotto un gelatino alla marena un cornetto alla marena e se lo gode ragazzi bellissimo intanto come sfrecciano via c'è anche delle riprese gran turismo ragazzi che dobbiamo dire dobbiamo battere le mani tanti problemi ma quello che riguarda le visuali e il replay è una cosa incredibile ragazzi e allora siamo qui ancora Willow Springs International Race Wave di Willow con il grande Giorgio Mangani prima posizione che mancano due giri al termine per lui essere catapultato alla finale ragazzi alla finale che si terrà a Milano ragazzi ad ottobre e lui sarà presente ragazzi alla Milan Games Week dal 5 al 7 ottobre poi informatevi se vorrete andare a vederlo se siete nelle vicinanze ragazzi vi consiglio di andare a conoscerlo perché è un ragazzo che merita una stretta di mano anche da parte vostra e una pacca sulla spalla ragazzi perché guardate come guida ragazzi incredibile 20 anni giovane pilota anche nella vita grande campione di go-kart avete visto e anche ragazzi scuola di rally allora chi ne ha più le meta perché grande esperienza quindi non solo appassionato di motori sul gioco ma anche nella vita e quindi a 20 anni ragazzi ha davanti a sé ancora una carriera e che io le auguro di diventare campione del mondo nel 2019 perché no ragazzi ci sta tutto è un grande campione in crescita e può ancora maturare ragazzi intanto veramente qui dietro ancora l'attacco andiamo a goderci questa battaglia questa bagarre tra racer e il grande giangi che non molla non mollano questi due ragazzi siete qui davanti abbiamo il pitbull qui dietro abbiamo due mastini che ricorrono l'osso l'osso della seconda posizione che il grande giangi tiene stretto questo osso nei denti e non lo vuole mollare e là dietro il leone affamato cerca adesso quando siamo ancora al quattordicesimo giro manca poco attenzione altra possibilità per racer per avvicinarsi di traverso le gomme cominciano a farsi sentire che fischiano sempre di più intanto guardiamo che mancano devono ancora concludere il quattordicesimo giro quindi ci sarà ancora il quindicesimo giro e il serbatoio inizia a schiacciare l'occhiolino ragazzi quindi strategia andiamo a vedere anche gli altri perché abbiamo allora William andiamo a controllare eccolo qua ragazzi anche per lui il serbatoio io spero che hanno calcolato tutto sicuramente stiamo parlando di grandi campioni invece guardate ragazzi come con Racer ha iniziato adesso a lampeggiare quindi ne ha un pochino di più veramente Giangi è quello che ha meno benzina di tutti speriamo che ha fatto i calcoli giusti intanto ancora bellissima questa ripresa dall'alto eccolo qua Giangi seguito a ruota dal mastino Racer ragazzi io non mi sposto più dietro agli altri sugli altri perché veramente la battaglia è qua e allora intanto andiamo a goderci questi manca ancora mezzo giro ragazzi il grande William il grande Giorgio Mangano incomincia a dosare questo acceleratore rallentando leggermente perché si comincia a godere il paesaggio e tira fuori la mano dal finestrino e inizia a salutare il pubblico in segno di vittoria ancora di traverso ragazzi grandi manovra guardate appunto la distanza che c'è se la può godere questo panorama che c'è poco da vedere ma il pubblico è presente e per i grandi Giorgio Mangano è molto importante la relazione con il pubblico ragazzi e allora attenzione perché siamo l'ultimo furbone andiamo a goderci qui dietro perché mi spetta un arrivo in volata tra questi due piloti Gianji che ha zero di benzina veramente attenzione basta è finita la benza per il grande Gianji è qui ragazzi arriva bandiera sventola ragazzi per il grande Giorgio Giorgio Mangano e vince e vince il grande Giorgio qui dietro arriva in volata attenzione Gianji senza benzina arriva seconda posizione terzo posizione per B-Racers che grande arrivo in volata ragazzi intanto complimenti per il grande Giorgio intanto arriva quarta posizione Scrao seguito da Giuse ragazzi ancora complimenti complimenti per il grande Giorgio Beskowski in sesta posizione e arriva anche De Katarisse di traverso con una casina che lo fa mazza lo sventolatore di bandiera anche di traverso pesca che vanno a sbagliare contro il muro grande disastro questo arrivo per fare un pochino di scena un po' di show tutti senza benzina intanto Rory 9-7 4-0 arriva in nonna posizione seguono anche gli altri ma io mi porto attenzione Alex Gabri complimenti anche per te ma mi porto ancora sulla macchina in questi ultimi secondi di gara sulla grande macchina qui del grande Giorgio Mangano ragazzi prima posizione il campione europeo ancora si distingue arriva primo anche a questo evento Mercedes e lo andremo a vedere ragazzi come finirà perché lui vincerà sicuramente io glielo auguro anche la finalissima che si terrà a Milano e allora ragazzi avete visto come promesso un super super garone qua con il grande il campione europeo ragazzi grande Giorgio Mangano che arriva dalla Sicilia e allora a grande sorpresa è qua con noi nel party signore e signori Giorgio Mangano e allora caro Giorgio buonasera eccoti qua buonasera buonasera stai tranquillo stai metti il tatuaggio perché sei nella Billy Bulli Family e qua puoi dire quello che vuoi puoi fare tutto quello che vuoi ragazzo mio allora io avrei subito da farti una piccola domanda perché hai raggiunto delle veramente hai vinto gare incredibili e allora dimmi un po' sei un giovane ragazzo perché so che hai vent'anni mi sembra giusto Mangano? si 20 meno male ci ho azzeccato non a meno questa partiamo bene non abbiamo sbagliato allora volevo chiederti questa gara che diciamo ti sei qualificato per la finale mi sembra di aver capito con la Mercedes-Benz Italia raccontaci un po' com'è andata allora diciamo che dopo la sfortuna che ho avuto un po' nella prima ero proprio deciso a fare bene in questa a qualificarmi quindi ho dato il massimo e diciamo che è andata bene stavolta ho fatto una bella battaglia con B-Racer che poi è andato fuori e niente quindi te la sei cavata ascolta e questo invece mi dicevi che dopo abbiamo da ottobre ci sarà la finalissima appunto quindi andrai a gareggiare con tutti i numeri uno che hanno vinto in queste sessioni e quindi ci saranno i più forti come la vedi questa gara come ti senti a proposito questa gara hai dei momenti che credi che potrai vincere allora secondo me sarà molto dura insomma perché di italiani di forti ce n'è parecchi quindi tutti quelli che andranno lì saranno dei piloti validi quindi concentrazione e dare sempre il massimo allora caro Giorgio io volevo chiederti anche una piccola curiosità perché so che sei diventato campione campione europeo quindi neanche stiamo parlando italiano europeo qui tu sei andato a rompere il fondo schiena qua a tutti i campioni d'Europa e sei arrivato primo quindi io ti chiedo ma cosa succede nella tua vita cosa è cambiato sicuramente ti avranno intervistato ti avranno fatto proposte e allora raccontami un attimino che cosa come ci si sente ad essere campioni europei qua del gran turismo eh innanzitutto è una sensazione difficile da spiegare molto bella insomma è cambiata anche la mia vita insomma come visibilità molte persone mi chiedono anche come come sono riuscito a vincere e come faccio ad essere così concentrato immagino immagino sicuramente a questi livelli quindi diciamo la visibilità è aumentata in molto certo e adesso che sei campione europeo stai aspirando a migliorarti quindi non lo so io il campione del mondo che ne dici ti piacerebbe l'hai messo in programma è nella tua agenda perché no certo se sbuca fuori il campionato mondiale sì per ora ovviamente siamo fuori dal FIA quindi mi sembra un po' difficile però speriamo in un futuro certo poi davanti a te sei ancora giovane quindi il tuo futuro io lo vedo bello colorato dalla bandiera scacchi che si sbatterà là davanti belli bei premi belle coppe sempre sul gradino sul quadro del podio qua il grande Giorgio Mangano ragazzi e allora Billy Bulli vi ha portato il campione europeo sul canale ma cosa volete di più ragazzi e allora sono arrivati i momenti dei saluti anche questa volta quindi caro Giorgio ti invito gentilmente a salutare il pubblico di Billy Bulli qua su YouTube ciao ragazzi alla prossima grazie Billy anche a te grazie grazie a te grazie a te un grazie grande come una casa come un grattacielo perché ragazzi Billy Bulli qua non è nessuno sapete che io il mio canale è il canale di tutti e oggi avere qua il grande campione europeo del GT Sport mia emozione è qua Billy Bulli entra in modalità belva ragazzi perché qui con Billy Bulli ci sono solo i campioni ragazzi e allora iscrivetevi al canale ragazzi e seguiamo attenzione perché avremo la prossima il prossimo sabato sabato 5 alle 4 del pomeriggio il grande Giorgio Mangano parteciperà ad un evento organizzato da Billy Bulli contro i 5 brasiliani più veloci quindi i 5 brasiliani più veloci del Brasile ragazzi contro i 5 più veloci italiani capitanati dal grande Giorgio Mangano e allora non mancate seguiteci ragazzi arrivederci a tutti fate i bravi mia assenza e ricordatevi non siamo qua a tirare le pulce alle scimmie ciao ragazzi a tirare le pulce